Questa collaborazione con City Angel è nata 13 anni fa ed è stato è stato mio carissimo amico Ivan Rota che ti spiego quando uscivamo dalla Scala o da FES che passavamo davanti alla sezione centrale vedevamo queste persone che dormivano sulle panchine per terra e proprio Ivan mi disse è una vergogna che a Milano una città così ricca così accogliente ci sia ancora questa situazione e mi disse guarda che c'è un gruppo di ragazzi che aiutano si chiamano City Angel e aiutano questi ultimi della Scala Sociale. Poi per caso ho incontrato Mario Furlato mi ha guardato e mi ha detto ma senta signora Giavarone noi abbiamo bisogno di una madrina come lei non mi può dire di no. Grazie a tutti.